Amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati e bentornato al dottor Roberto Marchesini, ciao Roberto, bentornato, grazie, buonasera, sempre molto gradito qui fra noi con tutti i suoi precedenti video che ci ha lasciato tanti spunti di riflessione molto profondi e di cui ti ringrazio sempre, grazie a te, sei gentilissima, Bene, con Roberto Marchesini questa sera affrontiamo un discorso che si lega in un certo senso anche come vedrete all'attualità, parleremo di un paese che Roberto conosce molto bene, in cui ha avuto molte esperienze di visita, di conoscenza di questo paese e di questo popolo. Parliamo della Polonia. Ci agganciamo a un libro che ha scritto questo, leggo il titolo, Per la libertà vostra e nostra, la Polonia raccontata agli italiani. Questo per la libertà vostra e nostra è un concetto molto importante sul quale vorrei che tu facessi una spiegazione perché è molto bella questa frase in tutti i tempi ma soprattutto anche adesso. Sì, questa è proprio una classica frase polacca e aiuta già a capire qual è il clima nel quale ci muoviamo e un pochino come funzionano i polacchi. Hai letto benissimo, io ho litigato un po' con l'editore che è un mio amico perché lui diceva no, è per la nostra e vostra in italiano si dice così e io dico no, in Polonia si dice per la vostra e nostra libertà nel senso che i polacchi combattono prima per la libertà degli altri e sono disposti anche a sacrificarsi per la libertà degli altri e poi diciamo se ne avanza anche per la loro. Il classico esempio del fatto che loro combattono per la libertà punto anche se è degli altri è quello che è successo alla seconda armata polacca del generale Anders che sostanzialmente ha liberato l'Italia, molti attribuiscono la liberazione dell'Italia agli americani, in realtà lo sfondamento sia a Monte Cassino che a Dancona l'hanno fatto i polacchi. E quando i polacchi hanno conquistato Monte Cassino e poi hanno risalito da penisola fino ad arrivare a Dancona e poi a Bologna dove sono stati accolti e assassati a male parole c'era già stato l'incontro tra i tre grandi a Teheran. I tre grandi avevano già deciso che la Polonia sarebbe stata praticamente ceduta alla Russia di Stalin. Quindi nonostante questo i polacchi hanno continuato a combattere con un sacrificio di uomini enorme sia a Monte Cassino che a Dancona, a Loreto c'è il cimitero polacco che è bellissimo e spaventoso nello stesso tempo, pur sapendo che la Polonia sarebbe stata condannata a perire sotto il tallone sovietico. La stessa cosa hanno fatto i piloti polacchi che hanno combattuto e hanno vinto la battaglia di Inghilterra contro l'aviazione tedesca, che poi non sono stati invitati alla parata per la vittoria della guerra o ne sono stati invitati pochissimi che hanno deciso di non partecipare. Però questo è veramente un motto, un detto per la vostra e nostra libertà nel quale i polacchi credono in maniera assolutamente ferma e lo hanno dimostrato in tutta la loro storia e soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco quindi un principio molto molto forte in un paese che nell'immaginario di tutti è sempre in lotta per la libertà, perché ha subito innumerevoli occupazioni, talloni di ferro, spartizioni, però ha un popolo molto molto fiero e tu dici all'inizio del tuo libro che la Polonia è, nonostante sia nell'est Europa, tu dici la Polonia è l'Occidente. Sì, anzi, loro non si considerano, noi la consideriamo adesso Europa orientale perché abbiamo in qualche modo la riminiscenza del muro di Berlino, chi stava di qua, chi stava di là, della cortina di ferro, eccetera. In realtà loro si considerano non solo Europa centrale, non puoi dire a un polacco che loro sono orientali, loro sono Europa centrale e loro sono Occidente, loro sono l'avanguardia dell'Occidente in Europa, tant'è che loro rivendicano con orgoglio il fatto di non usare l'alfabeto cirillico, di usare l'alfabeto latino. Quando il re polacco intorno all'anno 1000 si è convertito, aveva la possibilità di scegliere tra l'Occidente romano e l'Oriente bizantino in qualche modo e hanno fatto una scelta per l'Occidente romano e quindi cattolico e quindi l'alfabeto latino, eccetera, eccetera, e loro si vedono proprio come i guardiani le porte dell'Occidente contro quello che c'è ad Est, che nei secoli voleva dire gli Unni, voleva dire quindi l'Orda d'Oro, voleva dire i Turchi, voleva dire la Russia sovietica, eccetera, eccetera. Loro si sono sempre visti come il baluardo occidentale davanti a quell'oceano sconfinato che è l'Est, che è l'Asia. Tu racconti anche una bellissima storia su una foresta contesa. Ah sì, una storia molto particolare perché magari sfugge ai più l'interesse quasi morboso e ossessivo che i tedeschi hanno per la conservazione del patrimonio naturalistico polacco. È quasi inspiegabile, non si capisce, a meno di andare indietro di qualche anno e scoprire che una delle foreste che i tedeschi consideravano Ur-Forest, quindi la foresta primigenia, intoccata, dove gli europei, gli ariani primitivi andavano a cacciare con le lance, nudi con le lance, cacciavano gli uri, cacciavano gli orsi, eccetera, eccetera, è la foresta di Biagowiczka, che è a cavallo tra la Polonia e la Bielorussia, che tra l'altro è l'ultimo posto al mondo dove vivono gli ultimi bisonti europei. Quindi un posto molto particolare, però in qualche modo, visto che quella è la foresta originaria dove la bestia bionda cacciava, è un angolo di paradiso, perché è veramente un angolo di paradiso che i tedeschi considerano un po' roba loro, che a malincuore lasciano accudire ai polacchi. Perché sai che da Federico II in poi la Polonia è considerata davvero lo spazio vitale della Germania. Il famoso Lebensraum. Esatto, quindi loro guardano sempre a quell'area un po' come a cosa loro. Che poi i polacchi hanno assolutamente a cuore il loro ambiente. Ah, guarda, devo dire, Barbara, che io vivo in mezzo a questa riaffermazione dell'ambiente, eccetera, ma non ho mai visto un'attenzione per l'ambiente come quella che hanno i polacchi. Pensa che quando tagliano il grano in chiesa, tra gli avvisi, dicono di non bruciare le sterpaglie perché sono un rifugio dei topolini, di tanti animaletti, eccetera, eccetera. I polacchi hanno un legame con le loro foreste, che sono bellissime e molto estese, che è proprio viscerale, anche perché, ne parleremo, perché durante il periodo sovietico tanti sono sopravvissuti anche grazie a queste foreste, grazie ai funghi, grazie ai mirtilli, grazie ai pesci, eccetera. Quindi per loro è veramente un patrimonio. E poi hanno veramente, tutte le case hanno sempre la casetta con il cibo per gli uccelli perché d'inverno è difficile che gli uccellini trovino cibo, quindi hanno tutte le loro palline di lardo con dentro i semi. Ci sono delle case che ospitano, come fosse il cagnolino, la mucca, una cicogna, perché le cicogne che non riescono a tornare in Sudafrica e si fermano perché magari sono malate, diventano gli animali domestici delle famiglie polacche. Ci sono tantissimi segni piccoli, ma di un'attenzione enorme che i polacchi hanno per il patrimonio naturale. Per far parte dei forestali polacchi devi fare un lunghissimo percorso di studi, però tanti giovani scelgono questa strada proprio perché hanno una passione enorme per la natura. Un vicino di casa polacco aveva trovato un gufo piccolo e se l'è portato in casa e l'ha cresciuto. un gufo, aveva in camera da letto questo gufo che era diventato la sua mascotte, era diventato il suo animaletto. Senti, un'altra cosa che tiene insieme, che lega questo popolo in maniera che forse per noi può sembrare difficile da capire per come ci siamo ridotti dal punto di vista spirituale, è il rapporto con la religione cristiana e con i luoghi anche, diciamo i luoghi sacri, i luoghi di devozione che sono in Polonia. Tu descrivi queste lunghe processioni, questi pellegrinaggi che avvengono per andare a Cestocova. Adesso devo dire non più, è cambiata moltissimo, però durante tutto il periodo sovietico, fino alla fine degli anni 90, da tutte le parrocchie della Polonia, da tutte le parrocchie della Polonia, partiva un pellegrinaggio che arrivava a Cestocova per il 15 agosto. Quindi vuol dire che c'era gente che faceva a piedi anche un mese di cammino. E poi è veramente commovente perché io ho assistito, ho partecipato anche a qualche pellegrinaggio, arrivavano a Cestocova, mi commuovo parlando, festanti, con le chitarre, eccetera, ovviamente un pellegrinaggio a piedi in mezzo ai boschi, niente pulmini, niente alberghi, niente del genere. Arrivavano a Cestocova festanti e quando arrivavano davanti ai piedi del santuario, che è in una posizione un po' elevata, tutti in ginocchio, in un silenzio pazzesco. Passavano un momento di preghiera così e poi si mettevano con calma in coda per entrare nella chiesetta dove è conservata l'immagine della Madonna di Cestocova. È un'esperienza, adesso purtroppo è un'esperienza che è sempre più difficile vivere, i pellegrinaggi non sono più parrocchiali, sono diventati diocesani, sono sempre meno partecipati. Questa è una cosa che a proposito della spiritualità polacca vale la pena dire, Barbara, scusa se mi dilungo un attimo, noi abbiamo questa immagine della Polonia cattolica, ultracattolica. Già non è più così, ma rispetto all'Italia le cose sono ancora di un certo tipo, ma è un'immagine molto recente, nel senso che la Polonia nei secoli, e sto parlando veramente della conversione dei Re fino a, nei secoli è sempre stata una terra dal punto di vista religioso molto tollerante e molto accogliente, nel senso che tradizionalmente in Polonia c'erano i cattolici, c'erano gli ortodossi, qualche famiglia ortodossa c'è ancora adesso, c'erano i musulmani, i tatari per esempio, c'è una colonia di tatari molto importante nella Polonia orientale, sono musulmani, c'erano i ebrei, era il paese nel mondo che ospitava la popolazione ebraica più numerosa, c'erano i sociniani, c'erano di tutti i colori, protestanti, eccetera, eccetera, c'era veramente una multireligiosità pacifica. La Polonia cattolica che conosciamo noi adesso è la Polonia che emerge nel 1944-1945, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale. La popolazione ebraica, allora già prima con le spartizioni, la maggior parte degli ebrei in Polonia abitava all'est della Polonia, è diventata Russia, e da lì consiglio di leggere il libro di Solgenizzi in due secoli insieme, che spiega bene questa presenza che è diventata Russia ma che continuava ad anelare la libertà della Polonia. Pensa che in Yiddish Polonia si dice Polin, che vuol dire qui riposi, quindi consideravano un po' la loro patria, si sono trovati sotto gli zar e non era esattamente la stessa cosa e poi ci sono state un sacco di conseguenze. Ma c'era una convivenza tra varie religioni pacifiche. Dopo la Seconda Guerra Mondiale gli ebrei polacchi sappiamo che fine hanno fatto, gli ortodossi sono finiti sotto la Russia perché erano tutti nell'est della Polonia e quindi è capitato che la Polonia diventasse praticamente a stramaggioranza cattolica. Poi è successo che durante il regime comunista, che era un regime totalitario, l'unica alternativa al regime sovietico era la chiesa cattolica e quindi c'è stata una spaccatura della società polacca e la stragrande maggioranza è diventata cattolica perché ha trovato non solo delle risposte spirituali ma anche un'identità che fosse alternativa a quella del regime. Infatti quando poi è nato, magari lo vedremo, Solidarnosc la chiesa ha fatto un passo indietro perché prima era praticamente il controaltare del regime ha fatto un passo indietro e ha lasciato a questo sindacato svolgere un'azione politica eccetera eccetera. Però questa immagine della Polonia identificata con il cattolicesimo a parte che adesso le cose stanno cambiando molto rapidamente è un'immagine molto recente. L'immagine tradizionale della Polonia è in realtà quella di un paese con una convivenza pacifica di tantissime denominazioni religiose. Ci vuoi raccontare quell'episodio che racconti anche nel libro di quello che si è fatto arrestare e chiudere? Ah sì, Witold Pilecki, uno degli innumerevoli eroi polacchi e questi sono veramente eroi pensa che Pilecki era un ufficiale dell'esercito polacco che ha proposto e quindi gli è stato ordinato dai suoi superiori di farsi internare volontariamente ad Auschwitz, quindi è stata l'unica persona che è entrata volontariamente ad Auschwitz per organizzare una rivolta all'interno del lager. Non è riuscito, allora ha cominciato a scrivere tutto quello che succedeva nel lager, ha fatto uscire questi documenti, è stato ignorato, ignorato dagli inglesi, ignorato dagli americani eccetera eccetera perché dicevano che esagerava per chiedere un aiuto alleato, allora è riuscito a fuggire, è stato uno dei pochi che è riuscito a fuggire da Auschwitz e ha portato lui stesso questo memoriale agli alleati, anche lì è stato praticamente snobbato. Ha partecipato all'insurrezione di Varsavia, ha partecipato alla, così, alla, tra virgolette, passatevi i termini, alla liberazione con il generale Anders in Italia, poi una volta finita la seconda guerra mondiale poteva scegliere se andare come tanti in Inghilterra, per esempio, e lui ha scelto di tornare in Polonia. Sapendo la fine che lo aspettava, infatti il regime l'ha condannato per tradimento, è praticamente scomparso, si sa che è stato ucciso, ma non si sa dove sia il suo corpo, i suoi discendenti ancora adesso non sanno dove sono i suoi resti. Ecco, questo è il tipico esempio di un Polacco che è disposto al sacrificio estremo per la libertà degli altri, per la libertà degli altri. Ecco, questo è un altro esempio che fa capire il carattere dei polacchi. Che poi è la vera libertà, quella... Questo è un uomo assolutamente libero. Sì, è la libertà appunto di non imporre nulla agli altri, perché oggi è stato straordinario che questo concetto, però appunto per la libertà vostra e nostra significa che dobbiamo essere tutti liberi e nessuno ha il diritto di privare un altro della libertà. E se riteniamo questa cosa fondamentale, uno del principio primo della nostra esistenza, siamo chiamati a lottare appunto assieme a quelli che hanno bisogno di questo aiuto. Esatto. Senti, prima di passare al punto centrale di questo incontro, che sarà un po' una storia sicuramente sconosciuta di tutto quel periodo che definiamo il periodo di Solidarnosc, la caduta cosiddetta del regime comunista, vorrei che ti agganciassi un attimo al 68 polacco, perché sai che noi siamo un po'... non è che siamo fissati con il 68, però lo riteniamo è stato un fenomeno molto importante, non soltanto per la Francia, per l'Italia, per San Francisco o per altri luoghi, ma è stato un movimento che ha cambiato veramente il corso del secolo. Quindi nel tuo libro c'è un capitolo dedicato al 68 polacco. Esatto, perché? Perché questa è una cosa molto interessante. Allora, solitamente si ritiene che il 68 sia stato un fenomeno spontaneo, una specie di epidemia culturale che ha investito tutto il cosiddetto occidente, occidente perché gli Stati Uniti e l'Europa libera, allora si chiamava l'Europa libera, l'Europa occidentale. In realtà dopo gli Stati Uniti, dopo Mario Savio, il Free Space Movement, eccetera, eccetera, in Europa la prima nazione che ha vissuto il 68 è stata proprio la Polonia. E questa è la cosa interessante, perché io capisco un contagio culturale che passa attraverso, non so, la musica, i giornali, i libri, eccetera, ma lì c'era la cortina di ferro che teoricamente, a parte per il capitale che come si sa passa dappertutto, non aveva contatti con l'Occidente, passava qualche canzone ogni tanto, però insomma non è che vivevano il clima che abbiamo vissuto noi, hanno vissuto infatti un 68 molto diverso, ma hanno vissuto un 68. Allora gli animatori, li ricordiamo perché poi torneranno nella nostra storia, erano questi due, questi due giovani che non erano polacchi, in realtà erano ucraini entrambi, uno proprio ucraino, nato in Ucraina, nato di origine ucraina, che erano Kurong e Miknik. Allora questi due personaggi facevano parte del, erano parte dell'establishment, cioè erano figli di membri importanti, addirittura Kurong aveva lui stesso un ruolo all'interno della struttura politica della Polonia e quindi è stato un 68 che è nato in qualche modo all'interno del regime sovietico. E anche lì ci sono delle storie molto strane per cui il 68 polacco nasce dal fatto che il regime avrebbe impedito una rappresentazione teatrale del poeta nazionale polacco. Il problema è che in realtà non c'è mai stata nessuna interruzione della rappresentazione, nessuna censura, anzi la Pravda, che era il giornale che veniva diffuso in quegli anni in Polonia, la Pravda aveva recensito molto positivamente questo lavoro teatrale, però comunque gli studenti hanno cominciato ad agitarsi. e qui poi magari bisogna spiegare, bisogna allargare un po' il discorso, magari ci troviamo un'altra volta a parlare del 68, ecco, perché poi c'entra Israele, la storia si fa complicata, però il punto è questo, cioè la scintilla in Europa del 68 nasce in Polonia e in Cecoslovacchia e questo è abbastanza strano e contraddice la vulgata solita di questo fermento che col vento passa dagli Stati Uniti all'Europa. In realtà il focolaio è partito proprio dalla Polonia, qui però bisognerebbe approfondire, insomma, magari possiamo, perché so che c'è Danilo Fabroni che è un super esperto, so che Gianni Cone, anche lui, insomma ci sono personaggi più titolati di me a parlare di questo argomento, però insomma sono risvolti interessanti. Ecco, ci sono questi due personaggi che poi troveremo, Kuroń e Miknik. Kuroń era importante perché? Perché lui, come vi ho detto, ucraino, quindi immigrato, è stato il fondatore degli scout comunisti, cioè essendo un regime totalitario non poteva tollerare altre realtà associative, quindi gli scout sono stati praticamente aboliti, poi in realtà una tradizione che sotterranea è continuata e gli scout sono una presenza importante in Polonia. L'abbiamo visto anche in occasione del disastro di Smolensk, tutti i servizi d'ordine li hanno fatti gli scout in Polonia durante le manifestazioni, eccetera. Comunque Kuroń ha fondato per il partito gli scout comunisti, che erano una proposta alternativa, se la gioventù vuole trovarsi, andare nei boschi, imparare a fare nodi, accendere fuochi, intanto si beccava l'indottrinamento sovietico e l'autore è stato proprio Kuroń, uno degli animatori del 68, che poi troveremo anche nella storia di Solidarnoš. L'altro, Miknik, che è stato non il fondatore, ma il direttore per tanti anni di Gazzetta Viborcia, che è stato il più importante quotidiano polacco, è ancora adesso il più importante quotidiano polacco, da dopo la caduta nel muro di Berlino, che è tutto sommato potremmo dire l'equivalente di Repubblica in Italia, è liberista in economia, è ultraeuropeista, è abortista, anticattolico, eccetera, eccetera. Quindi ecco, l'altro è, questo giornale è stato diretto per tanti anni da Miknik. Miknik era uno dei due fratelli, figli di questo Osia Schecter, che poi ha cambiato il nome in Miknik, che era in realtà un polacco, che però lavorava per i russi durante tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, quindi è stato condannato per aver cospirato contro la Polonia. Stefan Miknik, che è il fratello, è stato anche lui un agente sovietico, pur non essendo laureato in giurisprudenza, però durante il regime ha lavorato come giudice, e credo il giudice che ha combinato più condanne a morte del dopoguerra polacco, negli ultimi anni del regime è scappato in Svezia e ha lavorato per Radio Free Europe, che era un progetto della CIA. E da qui il quadro si complica. Ecco, comunque ricordiamo questi due nomi, Kuro Niemiknik, perché poi avranno un ruolo anche nella storia di Solidarnosc, che racconteremo. Ecco, come vedi, mi scuso, però la storia è complicata, non è così semplice, non è tomica, buoni, cattivi, ci sono sempre un sacco di passaggi di campo che forse andrebbero approfonditi, ma magari non questa sera, ecco, se no la facciamo troppo lunga. e ci sono sempre un sacco di passaggi di campo.